I boschi della Val Visdende nel Bellunese sembrano una distesa di stuzzicadenti. La furia del vento ha sdradicato radici e palli della luce. La pioggia ha ingrossato i torrenti all'inverosimile, inondando strade e case. In queste ultime ore di maltempo è soprattutto il Veneto a gridare aiuto. Ho capito che è in ginocchio nella maniera più totale. Siamo isolati, in effetti da tutto. Ci manca internet, ci manca il collegamento telefonico, ci manca il wifi, ci manca la luce elettrica, ma soprattutto l'acqua. La cosa che mi stupisce di più è che non ne parla nessuno a livello nazionale. Si parla di Genova, si parla del Trentino come al solito. In Veneto sono decine i paesi ancora isolati. Per coprire l'emergenza la regione ha aperto un conto corrente di solidarietà. In serata è previsto l'arrivo del capo della protezione civile, che sta già valutando la richiesta dello stato di emergenza insieme a quella del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Vedete cosa è successo alla strada. Sono alcune decine di metri in cui la strada è completamente crollata perché in questo sperone di roccia non aveva alcuna protezione. Il governatore della Liguria indica dal mare i danni alla strada che unisce Portofino e Santa Margherita. L'asfalto, divorato dalle onde, non c'è più e i due paesi sono isolati già da giorni. Serviranno circa 20 milioni di euro per renderla di nuovo agibile, ha detto nel pomeriggio il ministro delle infrastrutture. Ancora da valutare invece i danni al sud. Qui siamo in Sicilia, sulla statale che unisce Palermo e Agrigento, diventata un fiume in piena. L'Italia è in ginocchio e nelle prossime ore non sono previsti miglioramenti.